Ebola è un'emergenza sanitaria internazionale. A conclusione della riunione straordinaria di due giorni a Ginevra, il Comitato di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato per l'epidemia in corso in Africa occidentale uno status che prevede misure aggiuntive di contenimento. La dichiarazione di un'emergenza sanitaria di portata internazionale rende necessario un alto livello di attenzione per possibili casi di Ebola, ma non implica in alcun modo che tutti i paesi o molti paesi avranno casi del virus. In conferenza stampa il Comitato di emergenza dell'OMS ha fatto sapere che per ora non sono necessarie restrizioni internazionali ai viaggi. I paesi dove l'epidemia è presente devono tuttavia fare testa a tutti i passeggeri di porti e aeroporti in uscita. Gli esperti hanno parlato anche di trattamenti sperimentali disponibili solo in quantità estremamente limitata. Lunedì una commissione si riunirà per studiare il possibile utilizzo di farmaci e vaccini nell'epidemia che in Africa occidentale quest'anno ha già ucciso quasi mille persone. Grazie.